Nello stesso giorno, 13 ottobre, ricorre la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Rinnovo il mio accurato appello per la salvaguardia del creato, mediante una sempre più attenta tutela e cura per l'ambiente. In coraggio, pertanto, le istituzioni e quanti hanno responsabilità pubblica e sociale a promuovere sempre più una cultura che abbia come oggettivo la riduzione dell'esposizione ai rischi e alla calamità naturali. Le azioni concrete volte allo studio e alla difesa della Casa Comune possano ridurre progressivamente i rischi per le popolazioni più vulnerabili.